E siamo al terzo, benvenuti a tutti ragazzi al terzo episodio di analizzo tutto il mercato del forex come sapete bene in questa serie per chi non lo sa andiamo ogni episodio ad analizzare sui 5 pair nel mercato a vedere come si stanno comportando adesso, cosa possiamo fare, se si può entrare a mercato, cosa dobbiamo aspettare se ancora non abbiamo l'opportunità oppure se dobbiamo bocciarli perché li bocciamo e dico per il momento per entrare a mercato perché come ho spiegato già nei due episodi precedenti è inutile far vedere solamente le operazioni a mercato che facciamo perché il trading non è solamente operare anzi su 10 pair che un trader analizza magari l'entrata la trova in 1, 2 o 3 non in tutti e 10, sarebbe strano se ogni pair che analizzi c'è un'entrata, vuol dire che la tua strategia forse è un attimino da rivedere come fai ad avere statistica a tuo favore ogni volta che apri un grafico no? quindi secondo me l'insegnamento migliore che posso trasmettervi è soprattutto questo il guardare i pair insieme a voi e il saper dire no, non entro perché non ha fatto questo oppure sì, oppure addirittura voglio che ora mi faccia questo per entrare quindi tutti i ragionamenti che ci sono dietro un trader quando apre i grafici a mercato quindi ragazzi questo è l'episodio 3, i due episodi precedenti abbiamo visto 10 pair circa oggi andiamo a vederne altre 5 quindi senza perderci in chiacchiere iniziamo subito ok ragazzi quelli che ho segnato in blu sono pair che abbiamo già visto quindi oggi ne andremo a vedere gli altri, sono rimasti tutti questi qua che non abbiamo ancora segnato se volete vedere le analisi degli altri pair basta che andate sul primo e secondo episodio vedete tutto così secondo me questa serie è completissima perché quando finiremo tutti i pair quindi avremo ancora due lezioni circa poi rinizieremo con i primi e il mercato nel frattempo è cambiato quindi di sicuro ci sono nuove opportunità e sicuramente i pair ci dicono qualcosa di nuovo andiamo a vedere, partiamo con EURCAD ragazzi io parto con voi dal Monfli ragazzi e guardiamo tutti i time frame andiamo a vedere cosa ci aspettiamo ok quindi vediamo un attimino partiamo dal Monfli come prima cosa sapete per chi mi conosce che io voglio capire cosa succede nella big picture nei time frame grandi cosa possiamo vedere su EURCAD? ci hanno fatto una bella estensione a rialzo e ora stanno lateralizzando da tanto tempo vedete qua siamo sul mensile quindi guardate da quando? da un anno fa praticamente vedete dall'1 maggio 2023 che stanno lateralizzando adesso cosa potrebbero farci visione long term perché siamo sul Monfli comunque andare a riposare perché qua ci hanno fatto un'estensione bella potente i buyer sono andati su molto veloci guardate qua come queste candele in questi mesi sono state belle potenti ora sta iniziando a consolidare perché noi dobbiamo far finta di non guardare il Monfli mettete semmai un pollice o un dito sopra time frame se vi da l'inizio fastidio pensare che questo sia il Monfli e anzi ragazzi c'è ancora più probabilità a livello di price action che guardando il Monfli succeda quello che possa succedere che deve succedere che quindi il mercato in questo caso vada giù e riposi perché se parliamo di M15 una candela a 15 minuti di informazioni ha un valore basso di 15 minuti e se parliamo del Monfli una candela a un mese di informazioni c'è ancora più probabilità e age statistico che il mercato ci faccia quello che deve fare quindi non facciamoci le paranoie che ha il Monfli quindi chi se ne frega no anzi a il Monfli c'è ancora più probabilità che possa fare quello che deve fare con la price action quindi qua dopo che ci ha fatto tutta questa estensione potente io mi aspetto un riposo perché qua ci sta appunto iniziando questo schema per riposare e che ci vada appunto a coprire tutta questa inefficienza che ci ha lasciato durante questa estensione però giustamente dal Monfli ora non possiamo capire tanto quindi andiamo ora sui time frame più piccoli anche perché come dico sempre anche se sul Monfli vediamo lo short non vuol dire che noi dobbiamo entrare per forza short sapendo contestualizzare sappiamo che magari uno short può essere di questo tipo e quindi anche questo movimentino a ribasso ne possiamo prendercelo a rialzo scusate ne possiamo prenderci quindi bisogna sempre cercare di capire in che punto siamo precisamente scendiamo sul weekly ragazzi sul weekly però vediamo che ancora a livello di price action comunque siamo rialzisti perché ci hanno fatto un'estensione qua vedete questo massimo che è più grosso del precedente e vedete l'estensione come è potente anche qua e qua come invece è debole il riposo come stanno lateralizzando e se andiamo a vedere anche la price action pulita vediamo che anche qua ci hanno rotto ci hanno fatto un massimo più grosso del precedente ragazzi ci hanno rotto quest'ultimo massimo qua e la dominance è rialzista da dove? da qua perché da qua parte l'immissione che ci va a rompere l'ultima nostra struttura ok quindi la dominance è rialzista da qua sotto ora ragazzi per chi conosce già un pochino il mercato qui ci hanno accumulato ci hanno fatto tanta liquidità io ragazzi uso il pennarello che si fa prima ok bisogna capire quello che stiamo facendo e non come dico sempre far la gara che ha il grafico più figo caccia ok e ragazzi qua c'è stata poi l'immissione che ci ha rotto tutto ok e cosa ci hanno fatto? ci hanno fatto un test interno nella struttura precedente ragazzi ok non sono venuti a mitigarci questa emissione a ribasso non sono venuti fin qua in basso ma l'aspettavo anche un po' più giù però come sappiamo i test possono essere di due tipi appunto o sulla mitigazione della candelina sell to buy come ci aspettavamo magari qua oppure sulla struttura guardate questa struttura precedente come è stata già testata dal mercato come si appoggiava qua si appoggiava qui la rompe la ritocca rompe ritocca qua ha testato e dopo che ha testato ci ha fatto un massimo più grosso del precedente e ha iniziato ad andare a rialzo ok quindi adesso siamo in un punto dove se il mercato volesse andare verso il ribasso dovrebbe iniziare ad agirci adesso perché perché comunque qua c'era questa inefficienza qui ci è venuto a chiuderla siamo d'accordo? vedete questa inefficienza che ci ha lasciato è venuto a chiuderla preciso ora sicuramente quasi sicuramente di sicuro non c'è niente deve un po' riposare perché anche se volesse continuare il rialzo comunque deve venirci a testare questa struttura la possiamo vedere meglio la facciamo meglio eccola qua dove il mercato si appoggia più e più volte deve venircela a testare per poi andare a rialzo quindi sia in caso volesse invece iniziare il ribasso serio o iniziare poi comunque continuare il rialzo io la vedo come zona dove potrebbe riposarci ok? come possiamo vedere se è fine estensione questa possiamo tirare fibonacci dal minimo al massimo precedente ok? quindi tiriamo fibonacci questo era l'impulso e questo è il riposo quindi tiriamo fibonacci dal minimo al massimo perché con questi livelli qua meno 23 meno 61 ci dà i livelli di possibile fine estensione quindi appunto il mercato qua ci è arrivato in un livello di possibile fine estensione al meno 23 e ci ha rifiutato bene ci ha formato questa doji e vediamo ora cosa succede e in più c'era la nostra chiusura in efficienza quindi è così che tu ti crei i box di probabile reazione questo è un box facciamolo viola di probabile reazione dove il mercato potrebbe iniziare a reagirci per il ribasso perché c'è il nostro meno 23 e la chiusura in efficienza abbiamo più confermo insieme che ci formano statistica come altra cosa noi possiamo usare la previous leg la gamba al contrario quindi questa è l'ultima estensione noi possiamo tirare dal minimo al massimo fibonacci al contrario si tira così la previous leg e vedere anche qua qua abbiamo il meno 23 su questo livello qua quindi questa era una zona è una zona ad alta probabilità di reazione per il riposo ok e adesso vediamo che ci iniziano a riposare ora scendiamo di time frame però dobbiamo avere delle conferme non basta pensare che possa reagire e allora vendiamo sennò stiamo sbagliando tutto e stiamo tradando quello che pensiamo noi non quello che vediamo quindi vediamo ancora meglio come qua c'è la chiusura in efficienza anzi se la vogliamo far precisa era un po' più sopra ok però questa era anche una bella strutturina dove si appoggiava tanto il mercato noi qualcosa vogliamo vedere comunque un cambio dominance perché il mercato ci deve parlare ci deve dire guarda nella zona che hai segnato tu io veramente voglio cambiare andare a ribasso ci deve dare delle conferme scendiamo su 8 ore ecco già su 8 ore ora la situazione è carina se chiude così ora siamo a lunedì se chiude così ragazzi voi vedrete questo video mercoledì molto probabilmente e oggi è lunedì quindi sapremo già se è chiuso ma la dominance com'era questa è la conferma che vogliamo e siamo su 8 ore questo era al massimo precedente siamo d'accordo che era rotto da questi buyers è da qui che parte l'immissione che ci rompe la dominance precedente siamo d'accordo che questi sellers ce l'hanno già rotta indipendentemente da come chiude vediamo un attimino sì perché ci ha chiuso col corpo sotto la dominance ragazzi però qua vi faccio una domanda tra bocchetto chi ce l'ha rotta questi sellers o questi qua i secondi ragazzi perché da qua parte un'immissione che non ci va a rompere niente il mercato rifiuta e poi è da qui che parte l'immissione che ci va a rompere quindi la dominance in questo momento diventa short da qui ok stanno comandando questi sellers cosa devo fare adesso vediamo un attimino come chiude scendiamo di time frame scendiamo un pochino non sarebbe male non sarebbe per niente male entrare qua se ci rompe da qui questa struttura perché questa è una zona tanto testata dal mercato vedete una zona molto dove si appoggia tanto il mercato in caso ci rompesse qua non sarebbe male prendere un'immissione del genere potrebbe anche ragazzi arrivarci più in alto vi dico la verità potrebbe anche arrivarci più in alto e venire a colmare l'inefficienza però il mercato reagisce tanto dove l'abbiamo visto anche se mi seguite su youtube seguite tanti video lo vedete spesso reagisce tanto sulle immissioni che ci rompono le strutture precedenti senza andare così in alto quindi se qua abbiamo due cartucce da spararci perché un trader deve lavorare così se ad esempio rischiate il 2% rischiate l'uno qui e l'uno se mai si rompe più in alto così in caso di stop loss di tutte e due stop loss è come se ne aveste preso uno in caso di take profit però non vi perdete neanche un'entrata perché il mercato potrebbe darci una prima reazione qua o se no per i più premurosi potete aspettarvi un evidence sui time frame più piccoli il discorso che faccio sempre di frattalità di mercato anche se questo è H2 e non è il daily noi ci possiamo aspettare un evidence su M15 di cambio dominance possiamo usare i concetti che ho fatto ho fatto anche nello scorso video 3 step per entrare a mercato andatevelo a vedere in tutti in tutti i time frame possiamo usarli per operare scalping tra dei o swing ok basta contestualizzare quindi in questo caso si potrebbe sparare vediamo domani come si comporta se ci rompe un po' tutto bene col corpo questa candela sta ancora andando se ci fa un minimo più piccolo la prima entrata qua dall'ultima missione buy to sell e la seconda magari un po' più questo come vedo è Urcad anche perché ci sta ci ha cambiato dominan su 8 ore molto importante ragazzi cosa che non ci cambiava da veramente tanto vedete a parte qua momentaneamente e però siamo in una zona molto importante ragazzi cosa che se ci prendiamo uno short parliamo del weekly ce lo prendiamo almeno per queste zone qua chiudere la struttura come abbiamo detto oppure addirittura più in basso quindi parliamo comunque di un bel movimento ragazzi ora andiamo a vedere un altro pay Urcad lo segniamo blu l'abbiamo fatto andiamo a vedere uno col gbp il primo che c'è gbp nzd ok avevo ancora le cose dello scorso video andiamo sul monfly prima cosa cosa possiamo vedere sul monfly sul monfly possiamo essere tutti d'accordo se avete visto un po' di miei video che qua c'è un sacco di liquidità ma non solo qua facciamolo con una struttura guardate il mercato quanto spesso si appoggiava in questa struttura in questa zona ok anche con questo minimo ci è andato qua a cacciare tutto con questo spike perfetto e cosa ha fatto poi test interno caccia dopo che ci hanno cacciato ovviamente cosa che fa spesso che prendono i volumi i soldi li rimettono a mercato e quindi hanno cosa hanno fatto ci hanno fatto un massimo più grosso del precedente guardate che engulfing qua anche a livello di price action vedete come poi si accumulano i concetti istituzionali con quelli di price action qua con una candela del monfly ci ha mangiato una due tre quattro cinque candele prima in un mese ha fatto anzi anche questa sei in un mese si è mosso con la potenza di metà anno di prima di sei mesi prima poi cosa ha fatto il ritest interno nella struttura precedente e poi è andato a rialzo qui giustamente cosa ci ha fatto rottura questo io lo chiamo jump the creek perché sappiamo che in wycoff possiamo entrare caccia test interno oppure sono un po' brutte le strutture così gialle vabbè tanto non è la gara di bellezza oppure dopo che rompe ritest qua sopra questo è il jump the creek ritest nella struttura dove si appoggiava precedente questa qui ok questa era un'entrata che si poteva fare sul jump the creek ovviamente su team fame più piccoli e ora quindi potrebbe andare a rialzo potrebbe iniziare una nuova estensione perché siamo sul monfly questa è l'estensione riposo nuova estensione potrebbe farci andiamo un attimo a vedere ok qua a sinistra cosa abbiamo tiriamo fibonacci vediamo il monfly lo usiamo tanto per vedere dove potrebbe arrivare al mercato quindi il meno 23 qua il meno 61 qua potrebbe arrivarci in questi livelli di fine estensione ora non combaciano con livelli estremamente particolari perché qua non c'è nulla a parte un po' di inefficienza qua vedete qua questa inefficienza che c'è da qui a qui che mi interessi però comunque andiamo a vedere un attimo ora sul weekly perché hanno avuto una bella reazione e qua secondo me sul weekly mi hanno fatto un massimo più grosso del precedente infatti questo è un test spalle anche per chi conosce bene la price action facciamo vabbè facciamolo anche così spalla a sinistra testa spalla a destra e ora ci stanno arrivando dove a livello di price action cosa è successo siamo d'accordo che questa era la struttura precedente rotto da chi da questa in missione quindi la dominance è long da qui noi guardiamo le emissioni il mercato ci reagisce molto spesso sulle emissioni precedenti come ragazzi qua prima che mi rompesse questo massimo da dove è partita qua c'era l'ultima emissione sell prima del buy che me lo rompesse no? qui c'era l'ultima candelina nera sell to buy eliminiamo la zona un attimo e si poteva entrare qua ok ovenzian sul weekly però per farvi capire il ragionamento il mercato ci è arrivato qua poi cosa ha fatto anche qua di nuovo qui prima di romperci questo massimo con questo più grosso ha fatto l'ultima emissione short prima del buy e ci ha reagito qua adesso quindi di conseguenza seguendo questi ragionamenti facendovi capire cosa ci potrebbe fare ci potrebbe fare tornare sull'ultima candelina sell prima del buy anche qua che ci ha rotto queste due strutture importanti e anzi prima wave seconda wave e questa sarebbe una terza wave che di solito è la più potente quindi molto importante adesso quindi cosa può succedere ci può andare secondo me ancora un po' ribasso il mercato siamo sul weekly su gbp quindi comunque stiamo parlando di 230 pips per questo vi dico anche se vediamo gbp nzd long perché poi noi lo vediamo long quando ci arriva qua che inizi il rialzo noi possiamo prenderci lo short sui time frame più piccoli sappiamoli con ferme ovviamente qua bello lo short perché sul daily ci ha fatto un minimo più piccolo del precedente bello non ha rotto vedete più piccolo del precedente vediamo un attimino sui time frame più piccoli vedete qua c'è dell'inefficienza che ci potrebbe arrivare a colmare quindi spostiamo la nostra zona anche qua eliminiamo più sotto che non ci interessa quella di prima potrebbe arrivarci fino in queste zone qua che livello c'è qua sotto il 2 e 0 6 quindi potrebbe arrivarci per qua vediamo su 8 ore ragazzi ok 8 ore ha riposato sta iniziando il ribasso a me cosa interessa ragazzi molto importante questo ci ha rotto questi minimi con questa emissione siamo d'accordo quindi importante segno per il ribasso sono forti i sellers andiamo quindi a vedere se troviamo un'immissione che ci rompe questa struttura dove può tornare il prezzo per ora prenderei questa anche se non è che bellissima perché non sono andati giù così belli decisi eliminiamo qua infatti vedete non è stupenda la situazione qua io qua ragazzi mi aspetterai una reazione senza entrare subito perché non mi piace tanto sta situazione vedete non è stupenda non c'è un'immissione chiara come piace a noi è tutto spai io mi aspetterai io mi aspetterai che il mercato ci arrivi in queste zone qua dove appunto vogliamo lo short poi noi e aspettare a vedere stavolta come ci reagisce quindi poi quando arriva in zona vedere una bella reaction e vedere se vendere appunto ragazzi vi interrompo un attimo per dirvi che appena uscito oggi ho fatto uscire il canale discord solo per i ragazzi ovviamente che fanno il percorso con me dove farò due lezioni a settimana quindi i ragazzi che fanno il percorso price action master farò due live a settimana durante le sessioni quindi si può tradare insieme e metterò anche tutte le lezioni registrate quindi per tutti i ragazzi che fanno il percorso avranno a disposizione tutte le lezioni registrate su discord abbiamo messo la sezione idee di trading dove tutte le persone tutti i ragazzi possono inviare le loro analisi io le correggerò le guarderò anche io invierò le mie e c'è la sezione trading chat dove tutti possono parlare di trading far domande interagire tra di loro è una cosa molto funzionale perché oltre alle chiamate one to one che ci sono si può avere interazione anche lì quindi oltre al percorso one to one che quello è il principale in più si hanno 5 mesi di discord dove si fanno due lezioni a settimana per tutti i 5 mesi quindi pensate quante ore di formazione in più e poi discord va avanti e si può continuare lo stesso anche dopo i 5 mesi solo per i ragazzi che fanno il percorso comunque abbiamo visto gbpnzd ora andiamo a vederne ancora due magari che ci siamo un po' dilungati vediamo usdchf usdchf partendo dal monthly e cerchiamo un pochino di capire usdchf allora il dxy lo vediamo sempre quindi abbiamo già capito che direzionalità sul dxy lo vediamo abbastanza long vediamo che qua ci hanno rotto l'ultimo massimo col corpo molto importante la chiusura col corpo soprattutto sul monthly ci dà tante conferme a livello di price action quindi io long term vedo appunto il dollaro long e anche usdchf di conseguenza anche per questo ci ha rotto l'ultimo massimo qui c'è tutta questa inefficienza da venirci a chiudere comunque quindi il mercato ci deve tornare su a chiuderci tutta questa inefficienza però come diciamo sempre non è detto che comunque il mercato ci voglia riposare per poi andare su e questo riposo potrebbe essere goloso quindi andiamo un attimino nei time frame più piccolo a cercare di capire ho tracciato il pennarello ok sono arrivati in una zona dove molto spesso il mercato ha delle reazioni da qui a rialzo e da qui a ribasso hanno rifiutato per bene però se devo guardare una cosa vedete che la price action va presa la lettera guardata bene ci hanno chiuso sopra con questa candela sopra questo massimo col corpo e siamo sul weekly segno di potenza ancora perché se ci chiude sopra col corpo è segno di accettazione da parte del prezzo quindi il mercato potrebbe ancora voler andare a rialzo a questo punto e infatti qua stavano riposando secondo me i buyer sono veramente forti perché sennò sarebbero voluti tornare anche a chiuderci questa inefficienza quindi scendiamo un attimo di time frame anche se scendiamo di time frame ragazzi la dominance è long perché questa era la nostra struttura rotta da questi sellers che sono stati rotti da chi? da questi buyers quindi ragazzi la dominance è long e anche il trend perché qua ci ha fatto massimo minimo più piccolo massimo più piccolo minimo più piccolo massimo più alto e di sicuro quasi sicuramente avrà una reazione adesso qua perché c'è questa struttura precedente dove si appoggia il mercato più volte e in più c'è il 50% del corpo di quest'ultima buy to sell infatti sta avendo una reazione qua era precisissimo e però però vi dico che a me questo sembra una bella zona ovvia tutti questi minimi guardate qua si vede meglio magari mettiamo 8 ore ancora meglio eliminiamo questa guardate quante volte si appoggia il mercato qua quanta liquidità c'era e questa è una bella caccia ragazzi caccia e hanno rotto poi molto potenti quindi non è male entrare long qua ragazzi questa è la nostra candelina sell prima del buy ovviamente qua siamo sul daily quindi come ho spiegato nel video scorso dei tre step qua sul daily ci prendiamo la zona di demand dove vogliamo che il mercato reagisca quando il mercato ci arriverà qua su h4 in questa zona cambierà dominance se vuole andare a rialzo ovviamente se vuole andare a ribasso ci romperà non ci cambierà dominance è meglio ci siamo tolti uno stop loss che potevamo prendere quindi il mercato farà così su h4 ci aspettiamo un movimento del genere la dominance qua da ribassista da qua diventa rialzista da qua riposerà e qua entriamo e ci prendiamo rialzo entriamo ancora meglio perché entriamo più precisi con uno stop loss molto ridotto rispetto ad entrare qua sul daily e con ancora più statistica a nostro favore ok ragazzi queste analisi mi sono piaciute ci siamo anche un po' dilungati e ho fatto anche episodi scorsi se non l'avete visti quindi abbiamo già visto un po' di pair vi direi oggi finirei anche qua perché abbiamo visto dei bei pair belle entrate che ci possiamo aspettare bella visione long term ci vediamo un prossimo video vi chiedo di lasciare un like ragazzi per sbloccare il prossimo episodio l'episodio 4 almeno arriviamo se riusciamo a 100 like e anche per capire se vi sta piacendo comunque tutto questo materiale gratuito che c'è ed iscrivervi al canale per rimanere aggiornati va bene vi auguro una buona giornata e ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi ciao a tutti ciao a tutti